Amici di Fanner, buona domenica e benvenuti al Tobia di Roma dove stanno facendo il loro ingresso in campo Play Eure e Atletico Ladispoli per la gara valida per l'undicesima giornata del campionato di promozione Girone A, le squadre si stanno schierando al centro del campo, pochissimi istanti al fischio Protegge il pallone, la tiene lì, sale Pantaleoni, anzi no, si trattava del numero 8, palla dentro per Venezelli A tu per tu Venezelli! Con il sinistro la sblocca il Play Eure Dopo attimi di partita bloccata, il numero 7 alla prima occasione valida, batte Romano, 1-0 per il Play Eure Potrebbe ricevere da Mazzesi, Mazzesi che invece va a lungo da Barile, l'1-2 con Venezelli Dentro per il numero 10, Barile con il tocco, la parata del portiere Grandissima occasione per Barile che non ha trovato il colpo vincente ma insiste il Play Eure con il tiro Stavolta palla che finisce alta, altro squillo dei ragazzi di casa De Angelis se lo prende il numero 3, palla che va larga per Barile, suggerimento profondo Attenzione al Play Eure che viene ancora in avanti, il cross per il numero 5 Non la prende Venezelli con il sinistro Stop e battuta di prima, molto difficile perché la palla era alta Costretto ad anticipare i tempi della conclusione dal rientro della difesa Ma ancora il numero 7 pericoloso Attenzione alla trama offensiva dell'Atletico Ladispoli Avanza la ruffa, la ruffa pensa al destro, il tiro non la tiene il portiere Poi Cistol e ancora Castellani in due tempi Sventa il pericolo dopo non aver trattenuto il tiro da fuori 5 ancora in possesso che torna proprio dal portiere Che libera con il destro in profondità Preda però di Palombini Nathan l'1-2 con la ruffa che va al tiro Palla che va sopra l'incrocio dei pali Anticipato, Nathan con la testa a renderla giocabile per la ruffa Coinvolto ancora Nathan Arriva la sovrapposizione, palla al centro Il colpo di testa di Esposito lasciato colpevolmente solo Il numero 9 forse anche egli sorpreso Non riesce a trovare l'angolo e la blocca Castellani Venezelli può puntare, ha un pochino di spazio Arriva la sovrapposizione, sfera che va profonda da Babucci per Barile Barile anticipato Poi sfera che resta lì, ancora Barile con il velo per Bugiani Di sinistro la parata Ma non riesce il portiere a toglierla dalla porta Bugiani ha fatto il 2-0 per il playeur Grandissima la giocata di Barile che ha lasciato scorrere Playeur che non perdona 2-0 Stufa, ancora Lanzi di prima con il destro Trovando bene Babucci Che tocca per Venezelli Lancio di sinistro per Bugiani Bugiani la stoppa bene Ancora Bugiani per la doppietta Largo sulla sinistra Ancora Bugiani che sulla sinistra arriva come un treno Stavolta non trova la porta Riesce ad alleggerire all'indietro Poi Babucci riconquista il pallone Tocca vicino per Lanzi Ancora Venezelli Si propone Babucci Palla che va ancora da Bugiani Il numero 17 con il sinistro E palla che esce L'occasione La terza per Bugiani Su una ha fatto gol Due sono terminate fuori Ancora 2-0 per il playeur Vitando all'azione Ceccaroli Ancora il numero 14 Dentro per Barile Con un altro velo Palla che arriva a Venezelli Che può provare il tiro Venezelli La risposta Pronta di Romano Il rilancio di Castellani Attenzione Palla troppo bassa Il numero 7 per Natana Tu per tu con il portiere Il numero 11 Palla che viene Messa in calcio d'angolo L'occasione Per il numero 11 Che non è riuscito A concretizzare A tu per tu con Castellani Palombini per il numero 7 La ruffa Arbitro che dice Che il tempo è esaurito Alto via Il finale è 2-0 Per il playeur Che trova punti pesanti Per la corsa Al primo posto